Allora, fatemela rinominare Perfetto Allora, come potete vedere Allora Gli arcieri contrastano i picchieri Che contrastano la cavalleria Che è questa cosa qui sopra di me Che è coperta dalla chat Ma qui alla mia destra C'è lo schema Alla mia destra, c'è lo schema con tutti Vedete, i balestrieri servono per contrastare Le unità corazzate La cavalleria leggera schianta i balestrieri Questo è un errore tipico Pensare che i balestrieri Vadano bene anche contro Se io ho picchieri Se io ho i picchieri Vedete, i picchieri I picchieri sono un soft counter Dei balestrieri addirittura Perché Non sono così d'accordo che siano un soft counter Io credo che i balestrieri Siano buoni anche contro i picchieri Lo metterei un Più Un solo più Non sono d'accordo con il meno Metterei un solo più Il discorso fondamentale è che Alcuni pensano che i balestrieri Siano migliori degli arcieri No Se io ho picchieri Tu devi fare gli arcieri E se io ho la cavalleria Leggera Contro la cavalleria leggera Vedete Va fatta Ho la cavalleria Vanno fatti i picchieri Sostanzialmente Questa scheda è quella ufficiale Gli arcieri Counterano i balestrieri Aspetta Non sono così d'accordo Che gli arcieri Counterano i balestrieri Non sono così d'accordo Che gli arcieri Counterano i balestrieri Non sono così d'accordo Perché gli arcieri Hanno un bonus Contro la fanteria leggera Ma i balestrieri Non è fanteria leggera Forse sono più veloci Dice Canesmoke Forse sono più veloci Comunque questa immagine Nonostante sia quella ufficiale Io non sono d'accordissimo Con tutto quello che Però è un buon punto di riferimento È un buon punto di riferimento Da notare qui a fianco a me Che gli abitanti del villaggio Counterano le pecore E patiscono la cavalleria pesante Bellissimo Le unità difficili da capire come counterare sono Gli elefanti Gli arcieri a cavallo Allora gli arcieri a cavallo Si counterano Allora domanda Quiz Dai facciamo un quiz Pronti ragazzi Facciamo un quiz Allora Non cercate su google però Ok Come si Counterano Sapete cosa significa Counterano Cioè come si respingono Come si counterano Gli arcieri a cavallo E devo mettere Più 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 cose Allora Si encounterano Va bene E li mettiamo Ah vabbè Li mettiamo tutti Bicchieri Fanteria Pesante Arcieri Balestrieri Cavalleria Due minuti Ok due minuti per rispondere Vediamo un po' Come le verifiche a scuola No ma questo è un quiz Non è per vedere Cioè non è che io le spiego Non è che io ho spiegato La sto spiegando ora Nel senso che Secondo voi Vediamo un po' chi vince Vediamo un po' Ah vedo che nessuno sta votando Fanteria Giustamente E questo è ovvio Perché la fanteria È più Eh uno ha votato Picchieri E tu dici Ah allora Gli arcieri Allora Sì I picchieri Fanno bonus Aggiuntivo Contro gli arcieri A cavallo E su questo Sì Il discorso è che L'arciere a cavallo Corre però Quindi il picchiere Non lo raggiunge mai Quindi picchieri È una risposta esatta In realtà Però Non è la migliore Delle risposte Io Se fosse presente In questa scheda Metterei il picchiere Con un solo più Nei confronti Delle Cioè Secondo me Non è una buona scelta Mettere il picchiere Contro gli arcieri A cavallo La fanteria pesante Non è una buona idea Da fare Contro gli arcieri A cavallo Perché la fanteria pesante Non ha un bonus Contro la cavalleria Inoltre è lenta Quindi gli arcieri A cavallo Sono più veloci E non li prendi Le risposte Più gettonate Sono arcieri E cavalleria Allora Il punto è questo Se la cavalleria Li riesce a prendere Gli arcieri A cavallo La cavalleria Ha un bonus Sugli arcieri a cavallo Perché? Perché gli arcieri a cavallo Allora il discorso è questo Gli arcieri a cavallo Su fregati Perché gli arcieri a cavallo Sono a cavallo E sono arcieri Quindi patiscono Il bonus Dei picchieri E patiscono Il bonus Della cavalleria Perché la cavalleria Ha bonus Sugli arcieri Allora La cavalleria Ha un bonus Sugli arcieri Sì Quelli sono arcieri A cavallo Quindi la cavalleria Ha un bonus Sugli arcieri a cavallo I picchieri I picchieri Hanno un bonus Contro le unità A cavallo Gli arcieri a cavallo Ho sputato lo schermo Gli arcieri a cavallo Sono arcieri E sono a cavallo Il punto è che Valla a chiap Valla a prendere È difficile prenderli Quindi Il counter migliore È come avete indovinato voi Sono gli arcieri Il counter migliore Contro gli arcieri A cavallo Sono gli arcieri Il discorso è che Tu dovresti avere Perché io Nelle mie partite Quando ho giocato Contro gli arcieri a cavallo Ho perso Perché l'avversario Aveva più arcieri A cavallo Dei miei arcieri Il discorso è che Dato che l'arciere Costa di meno Dell'arciere a cavallo Tu dovresti avere Più arcieri Dei suoi arcieri A cavallo E Gli arcieri sui cammelli Non lo so Quello non lo so A Selgos Mi dispiace Ancora sto cercando Di capire come Counterarli Anche e soprattutto Perché io non ho Quasi mai Giocato contro La dinastia abbasida Ho giocato una sola volta E ho perso Tipicamente ce l'ho io Quindi non so Come si counterano Poi La seconda domanda È E questa è E questa è bella I cammelli Gli elefanti Pronti raga Come Si Count Eh però Se lo scrivo Ci arrivate Vabbè non fa niente Tanti Tanti Allora Allora Questa è bella Allora Picchieri Cavalleria Pesante Ok dai Vediamo un po' Picchieri Cavalleria De Santi Pesante Armi D'assedio Balestrieri Secondo voi Come si contrastano Gli elefanti Con i topi Con il Vululu Allora Sì Allora Innanzitutto Sì Il Vululu Contro gli elefanti È micidiale Assolutamente Quindi Il Vululu È una risposta Corretta I monaci Con una reliquia Allora I monaci Con una reliquia Sono il counter Migliore Contro gli elefanti Però È difficile Insomma Yuri Ferrari Dice In Age of Empires 2 Sono i picchieri Poi se è cambiato Non lo so Allora Il punto è questo I picchieri Contrast Hanno un bonus Contro gli elefanti Ma devono essere Tanti picchieri Per contrastare Gli elefanti Cioè Per contrastare Un elefante Ti serve Che i picchieri Circondino L'elefante Però E allora Sono un counter Però devi fare Picchieri Che circondano La cavalleria pesante Non è una buona idea Contro gli elefanti I balestri Sono corazzate Ma in realtà Non è una buona idea I balestrieri In realtà Il counter Perfetto La maggior parte di voi È indovinato Sono le armi D'assedio E cioè La spingarda All'inizio Nella primissima fase E la partita Nella terza epoca Quando sono disponibili Gli elefanti Contro gli elefanti Si utilizza la spingarda E in fase avanzata I cannoni I cannoni Ragazzi La bombarda Può sparare Contro gli edifici O comunque Contro gli avversari grossi E la bombarda È perfetta Per sparare Contro l'elefante Decontestualizzata Questa cosa Pare che è una cosa Contro gli animali Però è così La fanteria D'armaconto Contro Chi è la fanteria D'armacorta Quale sarebbe La fanteria D'armacorta Arcamelot Cioè Non è presente In questo schema I trabucchi No I trabucchi Solo contro Gli edifici È bello È bello Va capito Capire come Contrastare le unità È fondamentale E questa è una bella immagine Più o meno Rende chiara l'idea Sebbene non sono D'accordissimo Su alcuni punti Cioè Ripeto Balestrieri Contro arcieri Non sono così sicuro Che vincano gli arcieri Sì infatti I russiani C'hanno i monaci Da combattimento Loro sono i migliori Di tutti Ok Ne facciamo un'altra Dai Qualcuno che gioca Se non gioca Nessuno Faccio il cast Di una partita La differenza Tra trabucchi E catapulta Questa è un'ottima domanda Allora Stai parlando nel gioco Ovviamente Cioè nella realtà Allora Cioè nella realtà Non ti so spiegare Ora tecnicamente Nel gioco Il trabucco È Quella Cosa enorme Che fa come una catapulta In effetti L'altro è un mangano Non è una catapulta È un mangano E il mangano Lancia Delle pietre Che Sono importanti Contro Le unità Ammassate Contro le unità Ammassate Il counter Migliore Contro le unità Ammassate È il mangano O le armi Da fuoco Che fanno danno Ad aria Oh Seisoken Vieni Seisoken Allora Seisoken Tu vuoi giocare Contro di me Oppure Sei alle prime armi E vuoi che io Faccia la telecronaca Di una tua partita CF Gauss Sì sto leggendo Comunque se si fanno le somme L'unica unità Che non ha pari Più e meno Sono i balestrieri Che hanno Meno un più Di un più Giusto Giusto Sì sì È la cosa che ho detto I balestrieri Non Non devono essere fatti A cazzo Seisoken Come non lo sai Non sai il tuo livello Di abilità Più o meno Una guida Sui tasti rapidi O altri trucchetti Con la tastiera Sì perché no Si può pensare Di fare Lo sai che cos'è Io le ho cambiati Seisoken Magari una telecronaca Anche se non sono Proprio un novizio Meglio 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 Se sei di medio livello Viene una bella telecronaca Oh Allora Io ti consiglio di fare così Di mutare la live E poi di rivederti La tua telecronaca E dopo Cioè tanto rimane sul canale E se viene una bella partita Anzi La pubblico pure Sul secondo canale Se viene una bella partita Ovviamente il discorso è questo Io pubblico sul secondo canale Video che devono essere carini O comunque Non fate brutta figura Nel senso che Se uno ha le primissime armi E fa una partita divertente La pubblico anche se perde Perché ha le prime armi Però se tu Insomma Sei di medio livello E tipo sbagli Delle cose Poi magari Se la pubblico Magari fai brutta figura Poi ne parliamo insieme Insomma Se vuoi che la pubblico Oppure no Allora Facciamo una cosa Innanzitutto Tolgo La cosa delle unità E Allora Seisoken Mi mandi la richiesta D'amicizia Qui su Sui Joempires Solo cinque partite online No Allora Inutile che giochiamo contro Scusami se te lo dico Però Ne ho parecchie Ok Va bene Lo ho tra gli amici Ora Come funziona Tu Dovresti fare Una partita personalizzata E chiami Come nome della partita Fammi pensare Vediamo se Allora Devi creare una partita Devi fare Consenti osservatori Crei una partita Fai Consenti osservatori Fammi pensare Aspetta Aspetta Ammi pensare Aspetta 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 Grazie.